Aldo sposta la tendina e guardo, vedo là in fondo che sta venendo il sole, un raggio di sole con i vetri appannati perché qua all'interno fa caldo. Sono nella casa di Ferriere ma dopo mezzogiorno riparto e guardo il calendario, siamo già al 25 novembre tra un mese e Natale ma Natale per me è un giorno come un altro, anzi più povero. Oggi pomeriggio la mia intenzione è di andare, forse se riesco, verso Genova perché voglio trovare, se riesco sempre, una casa economica in affitto dalle parti della riviera Ligure. Ora mi incammino all'uscita di casa, tra un'ora sono pronto. Saluti Aldo il Viandante il Girovago.